Alessandra, viso ovale, carnagione rosea e occhi verdi. Il desiderio espresso in consulenza è stato quello di coprire la parte fastidiosa e dare un tono più acceso, luminoso e brillante sulla lunghezza punta. Terry, dopo un'accurata consulenza, ha pensato di far vibrare il colore attraverso una Gold 20 con l'aggiunta di un pigmento paddock. È stata spuntata la parte sciuppata della punta e per enfatizzare il colore abbiamo fatto una piegamossa ripassata con il ferro per avere una maggiore durata. Alessandra è rimasta molto soddisfatta del suo nuovo colore, lucente e brillante. Grazie. 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 Grazie.